Sono Daniele Beretta, sono un dentista e frequento questa scuola da 15 anni. Fino ad allora io ero un professionista, un medico, il mio unico pensiero era quello di servire e aiutare i miei pazienti e mi ero fatto assolutamente un'idea folle di essere il dentista più bravo di tutti e quindi destinavo risorse di tempo ed economiche alla formazione, alla specializzazione e dopo 15 anni comunque già facevo le mie formazioni in ergonomia e mi interesso molto di ergonomia stomatologica, scrivevo articoli, mi occupavo di questa materia gestionale. Poi quasi per caso sono stato attratto dalla proposta formativa di questa scuola che parlava di imprenditoria, parlava di gestione delle risorse umane, tutte cose che io fino a quel momento non avevo minimamente considerato se no in termini di flusso di lavoro. Ed è stata un'esperienza veramente forte. Si trattava di una materia del tutto sconosciuta. Ho cominciato ad applicare questi metodi. In un tempo anche abbastanza rapido il mio studio ha cominciato a diventare molto produttivo. Poi ho cominciato ad espandermi e dai 60 metri quadrati, poco più del mio studio, quando ho cominciato, ora mi trovo a gestire una clinica con 30 persone e con un fatturato assolutamente di spessore. Ho potuto costituire con dei colleghi questa rete, questo gruppo di cliniche in Veneto che alla fine produce e fattura 8 milioni e mezzo di fatturato in un anno, quindi con un valore importante. E poi soprattutto la gestione delle risorse umane, la scuola è stata determinante. Grazie alla frequentazione ho potuto avvicinarmi a delle persone, conoscere persone straordinarie, persone bellissime. Quindi la scuola mi ha arricchito da tutti i punti di vista, professionale, organizzativo, gestionale. Quello che non mi sarei aspettato è la crescita come persona e la possibilità di avere nuovi contatti, nuove amicizie con persone straordinarie, di eccellenza assoluta. È stata una cosa importante per me. Grazie a tutti.